Bentornati a Life Tech, chissà se è giusto, beh adesso lo scopriremo subito perché passiamo ad un altro prodotto che Gianluigi ha portato per noi oggi No, lo devi lasciare lì e vediamo se era giusto No, prima volevo mostrarlo così, ah vediamo se è giusto, possiamo inquadrarlo dall'alto, vediamo se ho imparato le... Non era giusto, perfetto, ecco qui Ecco qua, che cosa, che cos'è, è un bel tablet, noi parliamo sempre di Reader, questa volta invece gli ho voluto portare un tablet che è diverso dalla quasi totalità degli altri tablet per due motivi Uno è tutto italiano e quindi è prodotto da Empire, made in Italy, fa bello dire made in Italy, è un prodotto appunto completamente italiano ed è prodotto da Empire Il nome è, come potete vedere, Empad, da Empire e poi Pad che è il tipo di prodotto È giusto È un bel prodotto perché tra l'altro, come dicevo, è diverso sia dai sistemi con Android sia con i sistemi iOS di Apple perché ha Windows 7 È come usare un notebook con Windows 7, come potete vedere è anche qui multi-touch, quindi potete far partire tutti i programmi che volete semplicemente con lo sfioramento delle dita Potete anche scrivere perché comunque c'è una tastiera virtuale, PPP, potete fare quello che volete La cosa bella di questo prodotto anche è che, come si dice, a me non piace molto, però performante Non è un termine che non amo molto, però è molto funzionale Ha un bel processore Intel, ha un, come dicevamo, Windows 7, potete scegliere se home o professional E soprattutto ha tutto quello che deve avere un prodotto del genere Cioè tutta la connettività perché se sei in giro con un tablet comunque vuoi avere non soltanto il Wi-Fi ma devi avere il 3G Quindi inserisci una sim e anche il Bluetooth se vuoi farlo comunque comunicare con altri prodotti del tipo come i telefoni Non è molto spesso, è un 15 mm, il peso è sotto il chilo È un po' più dell'iPad per esempio perché lo schermo è più grande L'abbiamo visto, questo è un 11 pollici Ah, un bel display Un bellissimo display e soprattutto, come stavo dicendo, multi-touch Questo display, guardate, è esattamente molto, molto Lo spessore, poi sto guardando, ha degli ingressi, delle connessioni Sì, è quello che stavo dicendo infatti, li hai beccati subito Va bene, quello sarà per ricaricarlo Perfetto Qui ci sono ben due, adesso vediamo se riesco Così, perfetto Ecco, ben due USB La cosa bella di questo tablet appunto è che non è un sistema chiuso come l'iPad Perché appunto lì non c'è la possibilità comunque di collegare per esempio dei dischi esterni piuttosto che delle chiavette Invece, oltre all'HDMI e al jack, avete questi due sistemi Non solo, c'è anche la possibilità poi di avere delle schede, schede di memoria Potete fare... Sono sempre qui Eccole lì E' tutto qua È tutto qua Tutte le connessioni sono sullo stesso lato SD, micro SD Quindi potete espandere la memoria interna che è di 32 giga Fino alla capienza della vostra scheda Un'altra cosa interessante che volevo farvi vedere Perché l'ho portato, nel senso noi stiamo parlando di libri digitali, libri di carta Su libri digitali come si può leggere un ebook su un prodotto del genere Se possiamo fare poi vedere il sito Prima abbiamo detto che è la giornata internazionale contro i DRM Però i libri con DRM ci sono Certo Se li acquistate dovete sapere che c'è la necessità comunque di attivare i DRM Quindi dovete scaricare sul vostro pc questo programma di adobe che è gratuito Che è l'adobe digital editions Quindi una volta scaricato dovete attivare il libro sul vostro computer Perché appunto c'è la possibilità Cioè prima da scaricare un file Per esempio voi comprate su uno store online un libro Dovete scaricare un piccolo file che ha estensione ACSM È un piccolo file che una volta attivato consente il download vero e proprio del libro Quindi una volta che poi il libro è stato attivato qui Lo potete poi leggere su tutti i vari altri dispositivi Se torniamo sul tablet vediamo come si fa Quindi una volta che voi Ho sbagliato anche stavolta la posizione Una volta che voi avete scaricato anche sul tablet L'adobe digital editions Non è soltanto un sistema per diciamo rendere possibile la lettura e lo scaricamento Ma è anche un e-reader e quindi un programma di lettura Io avevo già scaricato dei libri tra quali questo Per esempio l'ultimo di Verdone che abbiamo già visto in questa settimana Un paio di settimane fa forse ne avevamo parlato Ecco c'è la possibilità comunque di aprirlo come se fosse un e-reader qualsiasi Possiamo comunque leggere, prendere note, sottolineare In particolare comunque su un tablet del genere La parte forte secondo me è quella comunque di vedere per esempio delle immagini Che comunque su un e-reader comune verrebbero in bianco e nero Per il momento visto che non ci sono ancora gli e-reader a colori Poi c'è tutta la parte di indice E qui si può saltare da una parte all'altra del libro E quindi è molto comodo una volta che appunto avete questi libri con Adobe DRM E poterli leggere e gestire con un unico programma come Adobe Digital Editions Ripeto è molto interessante questo prodotto in particolare Questo tablet L'abbiamo detto il prezzo Ecco te lo stavo per dire 652 euro E come ti sembra per le prestazioni, il prezzo e poi magari facendo anche un confronto con gli altri tablet? Allora È in linea? È grosso modo in linea perché si avvicina molto più a un notebook che è un vero e proprio tablet Perché chi appunto vuole lavorare con Windows normalmente Lo può vivere e ci può lavorare, si può leggere i giornali, leggere tutto come se fosse Se fosse semplicemente un tablet ti direi forse è un po' caro Nel senso che poi soprattutto se uno va a prendersi l'iPad 2 adesso è comunque sui 390 euro Però tutto sommato anche gli altri tablet grossomodo il prezzo sai è tra 450-550 euro Qui hai anche una cosa che fa da computer tutto sommato Da notebook anche se poi in realtà è un tablet e quindi ci può stare Quindi niente, io mi sento di consigliare comunque l'Empire Grazie a tutti